Benvenuti a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con un nuovo episodio di Minecraft Signori, allora, punto fondamentale, parlo a voce un poco più bassa rispetto al solito perché è tardi Sono le undici e mezza di sera e quindi sto registrando, quindi per non dare fastidio ai vicini, voce basta signori, mi raccomando Intanto vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che dà da questa serie Sono contento, gli iscritti stanno piano piano salendo, uno al giorno ma va bene perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti E piano piano ci riusciremo, signori Cosa facciamo oggi? Allora, siamo nel nulla più totale e come avrete potuto capire stiamo costruendo il ponte Che da casa nostra ci porta al villaggio villager che abbiamo trovato nello scorso video Voi direte, ma sei un pazzo? E io vi rispondo di sì, signori, sono decisamente un pazzo Allora, sono più di 1000 blocchi di distanza, signori, più di 1000 blocchi di distanza Dobbiamo semplicemente mettere blocchi in continuazione come se non ci fosse un domani O un inventario pieno di blocchi di legno, di slab E non ho paura di usarli, signori, non ho paura di usarli Stiamo facendo una pazzia? Sì In questo momento molti stanno pensando, ma non potevi fare un portale nel nether? Li portavi dal nether? Ti veniva molto più vicino? Sì, è vero Però dove abbiamo noi il nostro spawn nel nether? Siamo circondati da nulla, signori E con i shank bassi che utilizzo per giocare Rischiamo che qualche ghast ci colpisca, ci punta alle spalle Senza che me ne rendo conto e voliamo giù nella lava, signori E l'ultima cosa che noi vogliamo è volare giù nella lava Allora, siccome questa fondamentalmente è una grandissima rottura di scatole Per dirle in maniera educata Ho deciso di farci un video, signori Ho deciso di farci un video perché bisogna soffrire assieme Bisogna soffrire e supportare la serie assieme Ovvero mettendo blocchi uno dopo l'altro Ovviamente non vi farò tutto il video in cui mettiamo blocchi, signori Piano piano mi porterò avanti io da solo Ma nel video di oggi dobbiamo riuscire quantomeno a completare tutto il ponte Che sono più di 1000 di blocchi in questa direzione in cui stiamo andando E 600 blocchi alla nostra sinistra Per come ho messo adesso il personaggio dobbiamo andare alla nostra sinistra È una pazzia? Sì, signori, però voglio due villaggeri nel mio villaggio Nella mia casa volante, signori Voglio portarceli, costruirli una piccola zona tutta recintata Così non possono scappare Costruirli una zona recintata Farli riprodurre E in modo tale che mi dovrebbero spawnare anche i golem Ovviamente non faremo una farm di ferro perché non ho intenzione di ammazzare Troppi golem, qualcuno forse lo ammazzeremo se avremo bisogno di ferro Però se riusciamo a creare un bel villaggetto piccolino Lì vicino alla fontana con quattro case E soprattutto troviamo il villaggero che sa Come si chiama, il libraio? Quello che ci può dare il mending Guardate là sotto a sinistra il creeper bastardo Che ci sta guardando per non farsi vedere Si mimetizza in mezzo alla canne da zucchero Le canne da zucchero No, sono bambù Che cazzo lo dico? Scusate signore, l'ora è tarda E sono un po' rincoglionito Sì, ma sì Rincoglionito, sì Dobbiamo portarci un villaggero Che non sa fare nessun mestiere E dargli il mestiere Quello per avere il mending, signori Riusciamo a ottenere il mending Abbiamo fatto jackpot Abbiamo fatto jackpot Allora, noi guardate come si vede perfettamente La circonferenza della terra Assurdo Allora, vediamo semplicemente a quanto siamo noi come coordinate Siamo a meno 409 Dobbiamo arrivare per la precisione a meno 1381 Siamo a meno di 1000 blocchi Questo già mi consola Siamo a meno di 1000 blocchi Abbiamo un bel po' di blocchi Sicuramente, forse, penso che non ci riusciremo A completare tutto con i blocchi che abbiamo Ma procediamo, signori Procediamo Sarà un video palloso e noioso Sì No, no, no Che cazzo è successo con? Perché me l'ha messo più basso? No, uno non si può distruggere un attimo Perché il gioco fa per i cazzi suoi Va bene Riprendiamo Cosa stavo dicendo? Ah, perché me ne ha messi due Uno sotto e uno sopra Va bene, superfluo Va bene, signori Io continuo così un poco A mettere blocchi E ci vediamo Quanto meno quanto spunto il sol Dai No, no, no Tu hai già rotto il cazzo Hai rotto il cazzo Facciamo un attimino di pulizia Ma sto passando in mezzo a un albero? No, in mezzo agli alberi no Ah, porca misera Questi alberi della giungla di merda Vabbè, dobbiamo salire un attimino Dobbiamo salire Piccolo cambio di programma praticamente Dobbiamo salire ancora di più La costruzione continua, signori Stiamo continuando a mettere blocchi Come se non ci fossero domani Ma non abbiamo problemi, signori Non abbiamo problemi Per ora il legno c'è Il problema sarà quando il legno Finirà e dovremo tornare a casa Per farmare l'altro Però va bene, però va bene Anche questo lo faremo Ancora 25 blocchi E poi vediamo se è spuntato il sole Perché da questa inquadratura non lo vedo E mi sta venendo la gobba Stare in questa posizione A mettere blocchi Però va bene Un giorno elimineremo tutta questa rotazione Assolutamente no Assolutamente no La cercheremo bella tranquilla Per ricordarci di questa megra impresa Che stiamo a fare Sì, oh, è giorno È giorno Bene Il sole è alto Questo è importante Cioè non si vede alla fine Bene, bene, signori Bene, bene Ma a noi non interessa A noi non interessa A noi abbiamo un compito, signori Un compito è quello di piazzare legni Al piacere, come dice il proverbio Al piacere non c'è prezzo E noi non abbiamo prezzo da pagare, signori Noi abbiamo pazienza Sì Stiamo facendo una cosa utile Sì Perché se portiamo il video al giro con il mending E tanta roba Stiamo facendo una cosa intelligente? No No Decisamente no, signori Perché dal nether forse sarebbe stato molto più veloce Ma anche molto più pericoloso Io l'unica cosa che spero è che i due villageri che porteremo nel nostro mondo Non soffrino di vertigini perché siamo molto alti, signori Con questa ponte Siamo decisamente molto alti Però non ha importanza Noi andiamo avanti come se non ci fosse un domani, signori Mettiamo blocchi Piazziamo blocchi E andiamo avanti Dai, altri 10 E poi cambiamo nuovamente direzione Che sennò andiamo sempre nella stessa direzione E non concludiamo niente Dai, dai Un'altra, un'altra Ok No, la torcia non la devi mettere Regula la torcia Prendi altri blocchi Mettili qua E torniamo ad andare in questa direzione, signori Bello sarà poi dover fare tutte le rotaie pure Eh vabbè Quello sarà pure un'altra rotatura di scasoli Vi farò un video pure sulla deposizione delle rotaie? No Su quello ve lo risparmio, signori Su quello ve lo risparmio L'importante è che riusciamo a completare sto cazzarola di ponte Entro questo video Così Così Poi nel prossimo magari appunto Vi metto le rotaie Portiamo i villaggeri Poi Costitiamo le casette Cose carine Cerchiamo il libro di mending Tante cose carine e coccolose Però Per ora, signori La dura legge delle costruzioni Dobbiamo mettere blocchi Signori E' cambiato il panorama Siamo passati dalla zona paludosa E con le mangrovie All'oceano Al mare più profondo Quanto meno Se cadiamo di qua Non moriamo Questa già sarebbe Questa già è una cosa importante Una cosa importante Però, sì Sto continuando a mettere blocchi, signori Non mi sta vendendo il crampo alle mani Perché comunque con entrambe le mani Sto tenendo ammaccati i pulsanti Da più di mezz'ora Quindi, sì Mi stanno vendendo i crampi alle dita delle mani Intanto qua I blocchetti di legno Stanno iniziando a scarsaggiare Ma noi non abbiamo paura di niente, signori Non abbiamo paura di niente Signori Stiamo procedendo Procedendo senza nemmeno un attimo di sosta E di nuovo Notte La stanno a fare un barbecue dei pecore Ma non ci interessa Il nostro obiettivo è piazzare blocchi E raggiungere quel cazzarolo di villaggio Che Dico Mamma mia Che pensate che mi vengano Però, però, però Va bene Il giorno che riusciremo A portare i villager Nel nostro villaggio volante Saranno Sarà Ricorderemo questi giorni di fatica Questi video di fatica Ma con soddisfazione, signori Con soddisfazione Forse Forse Non lo so Forse sì Forse no Forse sì Ma chi me l'ha fatto fare? Cosa poteva peggiorare Il mio dover mettere blocchi Continuamente Senza nessuna distrazione La pioggia, signori La pioggia Ci poteva mancare la pioggia? No Giusto quello che mancava Per infastidirci ancora di più Un poco di pioggia Un poco di pioggia Un poco di pioggia Carina e coccolosa Non ce la mettavamo Ma sì Ma sì Dai che ci sta un poco di pioggia Signori Allora Siamo a buon punto Prometto di nostre salve Ancora di più Con questo video Dovremmo essere quasi arrivati L'obiettivo è raggiungere Quel cazzarolo di villaggio Ma Ci siamo Ci siamo Penso che al prossimo break Dovremmo essere molto vicini Molto vicini Impressionante Non ha smesso di piovere Un attimo Porca miseria È da mezz'ora Che sto qua Che continuo a mettere blocchi Come se non ci fosse un doni E non ha smesso di piovere È impressionante Comunque signori Non siamo Non siamo ancora vicini Come avevo detto Nello step precedente Che saremo stati molto Siamo molto più vicini Dobbbero restare gli ultimi 300 blocchi In questa direzione In cui stiamo andando Purtroppo Mentre piazzò blocchi Mi sono reso conto Che sono andato anche oltre Infatti c'è un tratto In cui sono dovuto tornare indietro Perché ho messo Tipo 100 blocchi In una direzione Che non c'entrava più niente Perché avevamo raggiunto La coordinata Per la X E ora Adesso ci stiamo spostando Verso la coordinata Z Ma dovremmo essere quasi arrivati Signori Al prossimo step Prometto che vedremo il villaggio Al prossimo step Prometto che vedremo il villaggio E dovremmo anche iniziare a scendere Perché siamo un pochino molto alti E questa cosa non va bene Dovremmo anche vedere Cercare di iniziare a scendere A fare una sorta di scala Se no le rotaie come cazzo Allora ci salgono qua sopra Signori Ce l'abbiamo fatta Il villaggio è là davanti a noi Allora direi Facciamo una cosa Perché è notte E noi rischiamo di ammazzare tutti i villaggieri Facendo spawnare i mostri Quindi 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 Mettiamo Allora Mettiamo un flusso d'acqua qui Perfetto Di lusso Di lusso Di lusso Mettiamo una torcia qui Scendiamo con il flusso d'acqua Senza Cazzola Il creeper mi sta aspettando già là Ma sta scherzando Ma sta scherzando Creeper di merda Io ti ammazzo male Scusami Io ti ammazzo male Guardalo Guardalo Che già mi aspetta Pronto A farmi saltare in aria Lui con tutta la sua Rottura di scatole Devi morire No ormai devi morire Inutile che scappi via fifone Devi morire Eh bravissimo Ok Là ci sono un po' Di mostri Io direi Scendiamo velocissimamente Infiliamoci dentro una casa Dormiamo Così non dovrebbe Succedere niente All'interno del villaggio Velocissimamente Velocissimamente Vai 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 Corri 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 Spada in mano I villagiri sono ancora qua a giro Che cazzo te lo fanno i villagiri a giro Andate a dormire Che tardi e notte Brutti scemi Mi servite vivi Mi servite vivi Maledetti No sono entrato all'unica casa Dove non c'ho letto Questo perché sta passeggiando di notte in notte Devi andare a dormire Ok che ci sono i golem Però No Alzati Alzati Fammi dormire Fammi dormire Fammi tornimire Così passa la notte E non si parla più No non voglio scrivere nulla Non voglio scrivere No non voglio nemmeno Ok Ok signori Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Dove cazzarola del nostro ponte Ricordo questa casa qua Quindi il nostro ponte dovrebbe essere in quella direzione di là Compari ponte Quella forse è l'acqua che abbiamo buttato a noi Sì Perfetto Quella è l'acqua che abbiamo buttato a noi signori Quindi Da questo punto Noi dobbiamo iniziare a salire Come se non ci fossero domani Con i blocchi normali Con i blocchi normali Però signori Io capisco la rottura di scatole Immensa di questo video Quindi io direi che Secondo me Potremmo anche fermarci qua Per oggi signori Salutarci Salutarci Il villaggio l'abbiamo raggiunto Siamo tutti contenti Siamo felici Siamo vivi I villageri sono vivi Io prometto che nel video di domani Non so quante ore ci starò Ma avremo le rotaie signori Riusciremo a mettere anche le rotaie Quindi Nel video di domani Se tutto va bene Cercheremo di organizzare Il viaggio dei villageri Per portarli a casa nostra Signori Vediamo oramai Signori Ultimi Ultimi step Ultimi step di fatica Mettiamo gli ultimi blocchi Per cercare di raggiungere L'altezza giusta Del nostro ponte Ci siamo quasi Ma siamo fuori linea Questa cosa non va bene Però ce ne sbattiamo altamente Poi vedremo un attimino Di 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 metterci in linea giusta Siamo all'altezza Quasi Quasi Dammi Dammi le slab Perché Sanno Perché devo Conciare la legna Questa di qua Andiamo avanti con gli slab Signori Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Abbiamo trovato il villaggio Ora La rotola di scatole Ma dovrebbe essere un po' più veloce Dovremmo riuscire A mettere tutte le rotaie Rotaie rosse Rotaie normali Si non siamo forse Non siamo forse proprio in linea Dovremmo fare una mega curva Però Non ce ne frega altamente nulla Signori Abbiamo fatto tutto Questo macello Per riuscire a portare il villaggio A casa E ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Quasi Riesce a prenderlo No Ancora no Dai 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 Ora riesce a prenderlo Sì Ok Mettiamo però dei blocchi Normali Ecco Una cazzera Te la metto Qua il blocco normale Te la metto così Ok Solo che tu Non potresti farmi questa curva Mi farà Ma la farà questa curva Secondo voi Non lo so Ma non me ne frega Assolutamente nulla Signori Detto questo Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Dal serpentone È tutto Noi ci vediamo domani Per un prossimo video Bella raga Ciao Ciao